la cosa che cos'è bene a tutti ragazzi da san potente 3 qua su minecraft xbox benvenuti come sempre in un nuovo video sul mio canale io direi che ragazzi che possiamo iniziare con una bella sigletta perché abbiamo due nostri amici qua allora ragazzi adesso vi faccio vedere lo scorso gameplay e nelle scorse puntate abbiamo trovato abbiamo visto questo spawner adesso qua ci sono due nostri amici vediamo un po il loro passaggio non dovrebbe funzionare vedete non ce la fanno passare anche qua dove dritto guardate ma io non capisco c'è perché io ci passo e loro no meglio allora ragazzi no mi sono già dimenticato che dovevo fare ah si è vero dovevo fare una cosa molto importante allora innanzitutto ci servono ah no un momento andiamo a vedere le liane se sono pronte ok quasi pronte ok ragazzi quante è che cavolo solo solo due vabbè si vede che gli animali passando qua c'era prima un maiale che va bene dai prendiamoci un po di liane ragazzi che queste qua ecco ho fatto la cavolata ah di nuovo perfetto è perfetto ok mettiamo giù questa qua prima che si sparisca anche questa e si perché c'erano degli animali qua no e che camminavano una mucca mi pare un maiale e praticamente cosa è successo è successo che eccolo qui anche il ciuchino qua è successo che purtroppo loro passando schiacciano una pedana è un piccolo difetto di questo sistema automatico ma vabbè dai ragazzi allora oggi che facciamo oggi come potete ben vedere dal titolo è un momento che metto giù le liane che sono qua vi faccio vedere come si fa veloce veloce vediamo se ce l'ho messo qua forza si queste avevo sbagliate si forza apnea apnea niente ce le rifacciamo da capo tanto stiamo un secondo anzi basta che ne faccio tre già basta prima mangiamo eh ok quindi mi serviranno una di queste è una redstone poi mi servirà di nuovo una di queste perché io lascio sempre pronti e 3 di acqua quindi 1 2 3 perfetto e perché io praticamente lascio sempre la pozione strana già pronta vedete ok quindi mettiamo questa facciamoci la resistenza al fuoco anche la pietra rossa dopo per aumentare la durata e siamo super a posto ecco qua pozione resistenza al fuoco con la palla di magma e adesso lo aumentiamo a 8 minuti invece di 3 e così se abbiamo 24 minuti di durata ma penso che già con una basta eh è un mio consiglio ragazzi eccola qua 8 minuti adesso ci ficco l'acqua 1 2 3 e il funghetto e siamo a posto ragazzi andiamo nel nether io vi consiglio quando andate nel nether fatevi una pozione di questa così siete a posto al 99,9% non rischiate di morire perché il gas non vi fa niente se cadete nella lava non vi fa niente se sparano i blades che cazzo c'è qua ma boh andate andate nel mondo dai se volete dai vedete guardate vedete ah ma soffoco nella lava adesso non sapevo che si poteva annegare vabbè ragazzi così vi faccio vedere anche le progressi off the camera che ho fatto qua c'è del quarzo che volevo prendere vabbè e vabbè dai andiamo verso la fortezza quindi qua non c'è nessuno ho preso anche della luminite perché ah sta boccetta qua anzi mettiamoci mettiamoci l'arco e questo perfetto ragazzi adesso qua come potete ben vedere io qua ho scavato tanto ho preso tanto i mattoni del nether qua ho scritto gran parte delle cose e poi con la roccia del nether ho tappato i muri diciamo ok ragazzi l'effetto come potete vedere è appena finito adesso me ne bevo un'altra per stare tranquillo vedete non ho già fatto 13 in 5 minuti quindi diciamo che se mi servono adesso con queste 13 diventeranno 26 diventeranno 26 sento il rumore di uno scheletro buh e c'è un pigman ah qua c'è la luminite è vero che devo va bene dai ma questa non la prendo comunque potete ben vedere che 5 minuti perchè per se non l'ho bevuta prima prima di entrare o dopo ho entrato anche se sbaglio adesso strada vedete così vado sopra il fuoco non mi succede niente è molto molto sicuro anche se uno cade nella lava non vorrei cadere qua che dopo mi perdo adesso praticamente ragazzi andiamo verso casa e 13 verga di blaze mi frutteranno 26 polveri di blaze quindi se polveri di blaze ragazzi messe nell'alambicco sono veramente una grandissima cosa perchè vi fanno fare centinaia di pozioni e poi considerate che una dura 8 minuti quindi diciamo che siamo a posto ah posso vedere chi c'è di qua ok di là c'è ancora ok ok perfetto adesso magno e ce ne ritorniamo a casa la c'è del quarzo vabbè ma il quarzo l'omino ah c'è ancora qua vabbè in questo è torno a portare la casa che mi scegno perchè ho poche ampolle vuote ragazzi eccoci a casa ragazzi perfetto ancora qua ma questi sapete che ci faccio ci do una ci do una bella cosa che cos'è ho sentito un rumore strano vabbè vabbè perfetto allora i funghi del nether come sono a posto che caspiterina di roba è sono le cose aiuto che paura ragazzi mannaggia oh e che caspita di 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 paura che mi ha fatto prendere oh maledetti è stato per arrivare il giorno adesso vi vedo adesso vengo fuori vi sistemo io vieni 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 droppami 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 che paura che mi fanno mi ha droppato questo ok quell'altro è morto però non mi ha droppato niente ragazzi che caspita di paura che fanno eccolo un altro maledetto 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 lui uno ne è rimasto no te faccio fuori fortuna che non fanno tanto danno ma fanno una paura ragazzi mi sa che d'ora in poi andrò a dormire perchè devo vedere quanti di membrane ho eccolo che torna arriva arriva non mi fai paura dai troppa droppa droppa la membrana dai dai sì eccola no non ce l'ha mannaggia breve storia triste ragazzi non ho la membrana eh vabbè poco importa andiamo a mettere giù vediamo quante ne abbiamo dovrebbe essere qua la zona del drop sì eccola qua 8 e una 9 non so cosa ci si può fare ma non lo so qualcosa di bello ci si può fare a proposito invece qua mi ero ricordato che uccidendo tanti zucosi possiamo fare un altro un altro conduit condotto che ancora non ho più paio di idea di cosa serve ma ce lo faccio io così eh allora così così no eh ho già sbagliato un momento eh è che non uso mai sta sta sto metodo di fabbricazione allora così 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 e avanzano due è una fortuna del mare in centro e abbiamo un altro condotto ragazzi abbiamo un altro condotto molto 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 buono molto molto raro e noi ne abbiamo due non li sto ancora usando ma ne abbiamo due ragazzi e vabbè che volete che vi dica adesso qua non ci sono più perché stranamente col sole maledetti ho che paura che fanno che fanno saltare questi ok quindi due un po' le vuote qua questa avanzata la mettiamo qua sotto e queste le mettiamo ovviamente qua così adesso abbiamo 16 ragazzi ma abbiamo ancora 18 qua e 18 qua quindi ragazzi abbiamo io penso che adesso per 100 episodi siamo a posto con le verghe di blades ovviamente se non uso la polvere di blades per fare un'altra pozione che non mi ricordo cos'era se era forza o velocità no forza perché lo zucchero da velocità mi pare vabbè quindi ragazzi io direi che per questo gameplay possiamo finire qua che il tempo vola come sempre ragazzi come sempre mettete mi piace a questo video se la serie vi sta piacendo iscrivetevi al canale ragazzi se non avete ancora fatto noi come sempre ci vediamo in un prossimo video sempre sul mio canale ragazzi ciao a tutti ciao a tutti